Amici miei bentornati ancora una volta qui sul canale, come state? Fatelo sapere qui sotto nei commenti Oggi il secondo episodio dedicato ai gadget che utilizzo nel quotidiano, che utilizzo quotidianamente Gadget che magari a lungo termine mi danno più soddisfazione rispetto ad altri, ok? E questo è il secondo episodio, il primo episodio è uscito circa 6 mesi fa Oggi la giornata non è proprio bellissima, però vabbè, mi piace questa cosa Mi permette di realizzare delle belle chiacchierate tra di noi Vi ho visto molto curiosi, quindi mi fa molto molto piacere Detto questo, io qui mi sono scritto un sacco di cose, quindi procediamo con ordine Partendo ovviamente dai gadget che utilizzo di più di mattina Naturalmente quelli vecchi, tipo quelli che utilizzo sul comodino, la presa doppia, quella lì Non ve la riracconto, quello che non ho cambiato non ve lo racconto Ma comunque vi dico che vanno tutti bene quelli che non ho cambiato Ma anche quelli che ho cambiato in generale vanno bene Scusate un po' il gioco di parole, un po' la cosa un po' contorta Però effettivamente se l'ho cambiato è perché volevo qualcosina in più Che ovviamente vi racconto all'interno del video Detto questo, tralasciando appunto il comodino Vi dico che ho inserito delle altre prese, un po' quelli fisse in un certo senso Perché ho cambiato iPad Se mi seguite lo sapete, ma adesso ne parliamo a breve Me ne era molto veloce Cambiando iPad e aggiungendo altri accessori Come anche un altro smartphone Ho dovuto mettere delle prese in più E ho fatto una cosa molto interessante A me io ho preso una presa da 20W, se non sbaglio Quella piccola di Anker E l'ha inserita all'interno della mia scrivania Perché c'è un piccolo cassetto che mi permette di nascondere un bel po' di cose Di gestire al meglio i cavi Bene, ho messo la presa lì e ho fatto uscire fuori il cavo In modo che poi posso utilizzarlo quando voglio e come voglio Questa è una dritta che vi consiglio Se non avete anche voi un cassetto potete nasconderlo dove volete Magari anche sotto la scrivania con uno scotch biadesivo E poi gestire il tutto tramite quei fermacavi Ve li lascio in descrizione Sono veramente super comodi, piccolissimi E veramente, secondo me, utili Tra l'altro ne vorrei comprare anche uno io per metterlo bello fisso Magari per fatemi sapere nei commenti se già ne utilizzate e così via Però è una dritta che può dare tante soddisfazioni Io come vedete gestisco tutto Quindi ricarica dell'iPad, dell'S23, della tastiera, del mouse Super comodo anche dall'iPad mini Quindi si va che una meraviglia con questa scelta E poi in alto mi sono lasciato la presa diciamo classica Quella lì di Apple dell'iPad Che a volte aggancio per caricare appunto altri dispositivi tramite la Type-C Veramente super comodo Anche l'iPhone ci posso caricare lì Quindi veramente ottimo Vi consiglio questa piccola dritta Diciamo nascondere un po' queste cose Avere sempre tutto a portata di mano Vi velocizza veramente il tutto in maniera molto molto comoda Un'altra piccola chicca del mattino Se mi seguite lo sapete sono abbastanza matto Per quanto riguarda il caffè Si è aggiunto al set tramite un regalo Un'altra piccola macchina del caffè Costa poco e quindi ve la vorrei consigliare In maniera diciamo apriamo una specie di parentesi tra i gadget Perché è una piccola macchina È stata a dolce gusto Dovevi amarsi Ed è comodissima perché ci potete fare cose molto sfiziose Tipo che ne so Quelle cose un po' al canamello Tipo Starbucks e tutte queste cose qui Ed è interessante Soprattutto se lavorate a casa E volete farvi un qualcosa per accompagnare il vostro lavoro E in un certo senso Avere un qualcosa un attimino diverso Ci può stare Ci può stare Io utilizzo queste due macchinette Ma diciamo Volevo aggiungervi questa piccola chicca Perché nel quotidiano mi sta dando delle belle soddisfazioni Devo essere sincero con voi Ma detto questo Torniamo alla scrivania Perché di mattina non è cambiato troppo Già ve l'ho detto Ma sulla scrivania Sono state apportate un bel po' di modifiche È scomparso Diciamo lo stand del monitor Perché ho cambiato monitor Ed è enorme Gigante Ma adesso ne parliamo Ho fatto un po' di modifiche Alla postazione E tra queste Sicuramente Vanno messi I due nuovi iPad Dico due nuovi iPad Perché la situazione è un po' particolare Partendo dal fatto che Io avevo un iPad Pro M1 Ed è stato sostituito Quest'ultimo con un iPad Pro M2 Da 12.9 pollici E un iPad Mini Entrambi arrivano da Trend Device Sono entrambi ricondizionati Uno di grado A più L'altro di grado A Se non sbaglio L'A più è sicuro L'iPad da 12.9 pollici Il grado A Dovrebbe essere L'iPad Mini Magari ve lo lascio così Diciamo a display Però in generale Sono due dispositivi fantastici L'iPad Mini È proprio mio E ragazzi Dovevo averlo Perché è qualcosa di eccezionale A me piace tantissimo Come dispositivo E continuo a consigliarvelo Se volete proprio Il massimo Della maneggevolezza Volete il massimo Per quanto riguarda La comodità E volete un dispositivo Per lo svago Per il gaming Bello comodo E piacevolissimo Anche per prendergli appunti Mi sta dando un sacco di soddisfazioni E quindi Quello è mio Questo invece Il 12.9 pollici È un esperimento Che stiamo portando avanti Da un po' Non metto qui a Diciamo spiegarvelo troppo Perché me ne parlo Praticamente quotidianamente Sul secondo canale Quindi andate a dare un'occhiata Anche lì Però sappiate Questo non è un video Sponsorizzato da Trend device È una collaborazione Che ormai Portiamo avanti da un po' E lo sapete Se mi seguite Soprattutto Sapete un pochettino il tutto Due dispositivi Veramente fantastici L'iPad Da 12.9 pollici Poi mi sta dando Un sacco di soddisfazioni Soprattutto lato performance Per quanto riguarda però L'iPad Parlando di gadget Sto utilizzando Sempre la logica Combo touch Perché è molto comoda Mi protegge l'iPad Soprattutto quando sono in giro È veramente uno spettacolo Mi dà i tasti funzione Un bel trackpad Si scrive che è una meraviglia Comoda ragazzi E soprattutto Diciamo Questo suo essere combo Quindi posso tranquillamente Staccare la tastiera Per utilizzarlo In maniera super comoda Senza appunto Interferenze Senza appunto Avere questa tastiera Magari in mezzo E quindi utilizzare L'iPad Con uno stand Già integrato È veramente Una meraviglia E poi costa il giusto Secondo me E rapporto Qualità prezzo Anche meglio Della Magic Keyboard Già ve ne ho parlato Più volte Ma la chicca Delle chicche Per me È la cover di Pitaka Ragazzi Mi sta dando Un sacco di soddisfazioni Bella Comoda Magnetica E questo sistema Origami Che ho visto Lascia un po' pensare Alcuni Questo sistema Ma in realtà È super super comodo E intelligente Ragazzi si utilizza in due secondi Semplice E super versatile Perché vi fa utilizzare L'iPad in verticale Orizzontale Come volete Così lo utilizzate Ed è uno spettacolo E poi anche la pateletta Come la chiamo sempre io Per proteggere L'Apple Pencil Ovviamente di seconda generazione Utilizzo l'Apple Pencil Classica Mi ci trovo benissimo Ce l'ho ormai da anni e anni E va bene così Comunque iPad Eccezionale Questa cover Ve la straconsiglio Se avete un iPad Pro Prendetela Se ne avete la possibilità Perché vi darà tante soddisfazioni Siste in bianco e in nero Mi piace veramente tantissimo E sono super gasato Sotto questo punto di vista Ma Detto questo Forse la cosa più importante Che è cambiata Come gadget Periferico Come accessorio Mettetela un po' come volete Sulla mia schiena È sicuramente il monitor Arriva sempre da BenQ Ma in questo caso È un po' diverso Da quello che avevo prima E se dobbiamo fare Una classifica Tra tutti e due Li metto In un certo senso Anche sullo stesso livello Anche se diversi Poi ci diamo però con ordine Perché questo qui E qui leggo Perché il nome è difficile da ricordare È il BenQ PD3420Q Molto da 34 pollici 21 oni Quad HD HDR Spazio colore 100% SRGB E 98% P3 Con tecnologia IPS Che si traduce In tanta qualità Se volete la scheda tecnica E leggervi tutto 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 Io vi lascio il sito Qui sotto In descrizione Anche qui È una collaborazione Ragazzi Stiamo parlando Un attimo proprio Della mia esperienza Però Non video sponsorizzato Questo volevo dire Però vabbè Però vi posso dire Che nel quotidiano Vi da tante soddisfazioni E ho diviso il tutto In pro e contro Anche se di contro Ce ne sono tantissimi Sono molto sincero con voi Ma vediamo tutto All'interno del video Procedendo E andando Prima di tutto Sui pro Mi piacciono molto Le dimensioni 21 noni Secondo me Gestiti su 34 pollici Sono veramente giusti Sono buoni Sono abbondanti E vi permettono Di lavorare al meglio Soprattutto Lato multitasking Avete un po' tutto Ben posizionabile E si gestisce Che una meraviglia Tra l'altro Questo è regolabile In inclinazione Lo potete mettere In verticale Potete fare tutto Quello che volete Eppure l'attacco Di tutto e anche di più È un monitor Veramente spettacolare Tra l'altro Anche costruito Molto bene Mi piace Soprattutto la base In alluminio È bella pesante Bella interessante Quindi complimenti A BenQ Poi la qualità generale È veramente ottima Soprattutto per quanto Riguarda i colori Io non ho utilizzato Un accessore esterno Per calibrare Un attimo nel tutto Perché già di fabbrica Devo dire che è calibrato bene Secondo me Però di base BenQ Nelle impostazioni del monitor Permette di fare praticamente tutto E poi c'è il software Di BenQ Che vi permette di gestire Un po' tutti i colori Come volete E quindi Me la sono cavata così E tra l'altro Sono anche gestibili Vari profili di colore Che poi le potete switchare Tramite un accessore Che vi esce sempre in confezione È veramente un monitor Professionale Si vede già Da tutte queste piccole Che accortenze Che fanno la differenza Effettivamente Potete Diciamo Gestire un attimo Tutto come volete E in questo caso È pieno di entrate Un po' come il 24 pollici Di cui abbiamo parlato Un po' di tempo fa Anche questo è pieno di entrate Ha una USB-C Nel lato Insieme a un'altra USB E ha un cavo Aux Ha un'entrata Aux Poi dietro c'è altre USB Altre HDMI Display C'è di tutto E devo dire che Sotto questo punto di vista È anche assolutamente Da approvare Poi devo dire che Proprio in generale È bello da utilizzare Mi piace molto La qualità Si lavora In maniera Molto molto piacevole Vi parlo di video E photo editing Senza alcun problema Ma devo dire Che si gioca anche Senza alcun problema Io gioco ovviamente Dal Mac Quindi non aspettatevi Chissà che A testo tutto questo punto di vista Però Con Minecraft Devo dire che È uno spettacolo Avete un campo di visione Enorme Ed è bellissimo Sicuramente Vi sto facendo vedere Qualche clip È veramente qualcosa Di eccezionale Sotto questo punto di vista Mi è piaciuto Un sacco Per quanto riguarda I contro Vi metto che L'audio non è proprio Chissà che Nel senso che L'audio di un monitor È l'audio di un monitor E quindi non aspettatevi Chissà che Castle E soprattutto Mi sarebbe piaciuto Mi sarebbe piaciuto Un pelino di definizione In più Un pelino di accuratezza In più Lato proprio Come posso dire Non è affilato Nei suoi dettagli Ecco Non mi so spiegare Proprio bene Però è qui Il problemino Però nulla Di eccessivo Ecco Va più che bene Quindi Mi è piaciuto molto Mi piace molto E vi ripeto Resta un po' a voi La scelta Tra quello Dell'altra volta Quindi il 24 pollici E questo Questo è molto più Per il multitasking Ed è molto comodo Per il video editing Mentre l'altro È un po' più compatto È un po' più classico Come dispositivo Ma sono entrambi Spettacolari Veramente ho nulla da dire Utilizzo ormai BenQ da anni Da questa parte C'è un altro monitor Un altro 27 pollici Vi faccio vedere È stati qua Sposto troppo Perché sennò faccio macelli Però Sono anni ormai Che utilizzo BenQ E mi ci trovo benissimo Affidabili Super regolabili Belli tosti E qualitativi In generale Quindi molto molto bene Andando avanti poi Da questa parte Vi sono messo che Ho cambiato periferiche Lato mouse e tastiera Rispetto a quelle Mostrate 6 mesi fa Abbiamo sempre Logitech Ma Non più MX Mini Key E mouse verticale Che continuo però Ad utilizzare Il mouse verticale ogni tanto Però in questo caso Sono passato a MX Master 3S E mechanical Non vi faccio Troppe pippe mentale Non vi metto a parlare Troppo sotto questo Motivista Perché ne abbiamo parlato Più e più volte Qui su questo canale Però A lungo andare Vi dico che sono Delle periferiche Veramente toste Belle Di qualità E Non sono ancora Riuscito a trovare Di meglio Il mouse Proprio Mi sembra quasi impossibile Ormai per la produttività È eccezionale La rotellina di fianco È comodissimo Analizzato bene Costruito bene La rotellina È proprio perfetto La tastiera Ne ho provate Abbastanza di tastiere meccaniche Non tantissime Mi piacerebbe configurare Una bella tastiera Proprio sapete Quelle lì Fatte proprio a mano da voi Prima o poi lo faremo Però costano un bel po' Questa costa 100 euro 100 e qualcosa Adesso non ricordo Nello specifico Però È qualitativa Funziona bene Si connette Anche questa qui Ha più dispositivi È un prodotto Che sa coccolarvi E che sa essere affidabile L'autoproduttività Per me è essenziale E poi ci giochicchio Vi ripeto Sempre Minecraft Però Mi ci trovo molto bene Quindi ve la consiglio Mi piace come dispositivo Smartphone Attenzione Sei mesi fa Due iPhone Oggi E due iPhone E poi c'era il Realme Oggi Abbiamo iPhone E S23 È rimasto Ovviamente Ve l'ho detto Perché l'ho comprato Mi è piaciuto molto Come dispositivo Continua a piacermi Non ho problemi Di messa a fuoco Me l'avete chiesto in molti Questa cosa Se anche io Ho problemi Con la messa a fuoco No Non ho mai avuto problemi Sotto questo punto di vista Ne parleremo Però vi posso dire Che sono attualmente iPhone 14 Pro E S23 Due dispositivi Che mi sta dando E continuano a darmi Un sacco di soddisfazioni S23 Io l'ho uso Abbinato a questa cover Di Pitaka Una skin cover Che mi permette Di godere al massimo Proprio del design Del dispositivo Mi ci trovo molto bene E tra l'altro È anche MagSafe Quindi mi permette Di sfruttare un po' Anche gli altri gadget Ecco Mentre iPhone L'utilizzo O con questa cover Di Mujo Ultimamente Ne ho tante Ultimamente Vi parlo appunto Di quelle che utilizzo Di più Ultimamente Quante volte ho detto Vabbè Comunque quelle che utilizzo Di più Sono questa qui Di Mujo Con il portavoglio Diciamo integrato Molto carina Super elegante Mi piace un sacco Oppure Negli ultimi giorni Negli ultimi settimane Da quando appunto È arrivata Sto utilizzando Moltissimo Anche questa qui Di Spigen Bellissima È proprio Bella 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 Mi dà proprio Quella sensazione Di tech Bello il design Diversa In silicone Fatta bene Mi piace un sacco Ve la straconsiglio Anche con il MagSafe E in abbinato A questi due dispositivi Ho una serie di gadget MagSafe Su tutto abbiamo Powerbank nuovo Che arriva sempre da Spigen Lo sto utilizzando da un po' Mi sa dando un sacco Di soddisfazione Per rapporto da prezzo Mi piace Ed è studiato anche bene Per iPhone 14 Non esce fuori dall'iPhone Non Diciamo È difficile da applicare Comunque Non vi dà problemi È stato pensato proprio bene Come dispositivo Bello tosto E funziona bene Carica anche bene 5.000 mAh Mi piace un sacco Type C È proprio bello Mi sta dando soddisfazioni Inizialmente ho fatto Poi pensare Perché Lato design Non mi piaceva Invece Nel quotidiano Molto molto piacevole Da utilizzare Si graffia anche Molto molto meno Rispetto per esempio A quello di Anker Perché Ha questa finitura In plastica rubida Che vi protegge Molto bene Quindi Molto molto bene Dall'altra parte Ho un altro accessorio Sempre di speaker Che è questo piccolo anello Sapete la mia pazzia Cioè il mio amore Per questi Gaggettini piccoli E questo non solo È bello Perché ha uno stand Integrato Che vi permette Di direggere meglio Lo smartphone E così via In giro E non solo Ma Ha anche integrato Un piccolo supporto Per agganciare L'iPhone sul Mac E utilizzare appunto L'iPhone come webcam Ed è uno spettacolo È geniale Come cosa E quindi ve lo consiglio Ve lo consiglio Mi piace un sacco Anche lato costruttivo Quindi molto molto bene Brava speaker Perché ha fatto Un bel prodottino Un bel gadget A me piacciono sempre I prodotti di Spigen Li sto provando Da un bel po' Insieme ad un altro Che poi Ve ne parlerò prossimamente Lo voglio provare Ancora un pochettino Non è entrato Nel mio quotidiano Per questo Non ve lo sto inserendo All'interno di questa Di questa lista Ma ne parliamo Perché è molto figo Molto interessante Detto questo Poi Per quanto riguarda Il powerbank Rimane sempre il mio Diciamo Fidato Ve lo reinserisco Perché comunque È uno dei prodotti Che mi chiedete di più Io utilizzo ancora Questo qui di Inew Con display integrato USB-C Due USB Veloce Rapido Affidabile Mi sta andando Un sacco di soddisfazioni E non vi nascondo Che voglio prendere Quello da 20.000 mAh Un attimino più grande Ve li lascio tutti e due Lo sto dicendo da un po' Prima o poi lo compro Ma attualmente però Non ho inserito tanto L'esigenza Perché non sto uscendo Moltissimo Quindi questo mi va Più che bene Tra l'altro Utilizzo anche per caricare La fotocamera E tutte queste cose qui In abbinato poi Con il cavo Telato Con il display Quello di MC Dodo Per me chiamarsi così Fantastico Per apportare da prezzo Ve lo straconsiglio Anche quello lì Veramente ottimo Per finire poi Abbiamo due gaggettini Che hanno sostituito Un po' Quelli che vi ho mostrato Negli altri video Su tutto Un set di Un kit Di set in uno Che permette di pulire Praticamente tutto La chicca delle chicche In questo caso Che costa poco E all'interno Una piccola Un piccolo porta detersivo Si chiamano Diciamo Chiamamolo così Che permette poi Di portare con sé Un po' di liquido Per pulire i display Che è sempre super comodo E vi permette di pulire Il tutto nel migliore dei modi E poi la spazzola Che abbiamo sotto Diciamo il pennellino Entra proprio bene Le tastiere Ve lo ripulisce Nel migliore dei modi E poi questo piccolo supporto Per smartphone Che vi ho mostrato Più più volte Che ha sostituito Praticamente quello di Xiaomi Perché è molto più piccolo Nel quotidiano Lo mettete in tasca Senza alcun problema E per fare foto e video È uno spettacolo Anche in verticale Super comodo Mi piace veramente un sacco Costa poco E ragazzi Vi darà tante tante soddisfazioni E per il momento non cede Quindi ottimo Per rapporto da prezzo È eccezionale E arrivato a questo punto Ragazzi Vi ho detto praticamente tutto Vi ho raccontato un po' Tutti questi gadget Più o meno sono 15 oggi Anche perché gli altri Sono rimasti più o meno invariati Ve ne ho parlato già Da quell'altro Su appunto In quell'altro video Quindi ho evitato Un attimo Troppe ripetizioni Detto questo Molto molto bene Aggiornamenti Per quanto riguarda Smartphone eccetera eccetera Molto bene Non ho problemi Con S23 Aggiornato Tra l'altro Anche ultimamente Quindi molto bene Anche sotto questo punto di vista E nulla Ci vediamo prossimamente Sempre qui sul canale Per un nuovo video Ciao Ciao